Oltre alla grazia, che altro aveva dato Dio all'uomo? Oltre alla grazia, Dio aveva dato all'uomo l'esenzione dalle debolezze e miserie della vita e dalla necessità di morire, purché non avesse peccato, come purtroppo fece Adamo, il capo dell'umanità, gustando del frutto proibito. Primo A questo dono, assolutamente soprannaturale, Dio aggiunse altri doni e vie, che non sono soprannaturali in senso assoluto, ma che nemmeno sono dovuti alla natura umana. Perciò sono detti doni preternaturali, ed esentavano l'uomo dalle debolezze e dalle miserie della vita e dalla necessità di morire. I doni preternaturali erano i seguenti 1. Il dono della scienza, o esenzione dell'ignoranza Dio diede ai nostri pregenitori un intelletto integro e dotato di grande acume, per cui potevano apprendere con grande sicurezza e facilità le verità naturali. Inoltre, infuse direttamente il dono della scienza, per cui, oltre alle verità rivelate, conoscevano anche molte verità naturali, senza bisogno di impararle con lo studio e l'osservazione. 2. Adamo dimostrò la grande scienza che gli era stata infusa e quella acquisita quando Dio gli fece vedere tutti gli animali della terra, ed egli ne comprese subito la natura, gli uffici, le attitudini, le proprietà, e impose loro il nome conveniente. Vedendo Eva per la prima volta, le impose pure il nome conveniente e ne comprese subito la missione sublime. Ecco, disse, l'osso delle mie ossa, la carne della mia carne, e l'avrà nome dall'uomo, perché è stata tratta dall'uomo. Perciò l'uomo lascerà suo padre e sua madre, e si unirà alla moglie, e due saranno una carne sola. 2. Il dono dell'integrità, o esenzione dalle debolezze. Dio fece l'uomo retto. Dando ad Adamo e ad Eva una volontà pronta e forte, guide via sicura nella scelta del bene, capace di dominare e dirigere tutte le facoltà, obbedita dalle passioni che inclinavano al bene. La volontà, a sua volta, si regolava secondo il lume della ragione e guidava la ragione stessa. Tutto l'uomo era soggetto alla volontà, che tendeva naturalmente al bene e a Dio. Le passioni erano ordinate, non turbavano né il giudizio della mente, né si sottraevano al dominio della volontà. Infatti, Adamo ed Eva sapevano il fine per cui Dio li aveva creati, maschio e femmina. Vedevano la loro nudità, ma non sentivano gli stimoli della bassa concupiscenza, né provavano vergogna di se stessi e della loro nudità. Il dono dell'integrità comportava non solo il dominio della volontà e della ragione sopra le passioni inferiori e sopra la propria persona, ma anche la signoria su tutta la natura inferiore. La terra era obbediente all'uomo e richiedeva lavoro, ma non fatica. Gli animali obbedivano docini all'uomo. Dio diede all'uomo l'impero delle cose che sono sopra la terra, le rese terribile e tutti gli animali in modo che dominasse bestie e volatili. 3. Il dono dell'impassibilità o esenzione dalle miserie della vita e il dono dell'immortalità o esenzione della morte. I nostri progenitori non furono creati completamente insensibili al dolore. Se non si fossero nutriti avrebbero sofferto la fame. Ma erano esenti dalla noia, dalla stanchezza, dalla fatica, dai dispiaceri. Erano inattaccabili dalle malattie. Il corpo di Adamo era bello e aitante, robusto e armonioso, raggiante di salute e di bellezza. Quello era di Eva, pieno di grazie e di venustà. Ne avrebbe conosciuto le doglie della maternità. Il paradiso era il luogo delle delizie, della pace, della serenità imperturbabile. Oltre l'impassibilità, cioè la capacità di non soffrire, i progenitori ebbero anche il dono dell'immortalità. Come composti di materie di forma, potevano morire, ma per un dono divino preternaturale. Adamo ed Eva furono creati da Dio inesterminabili. Non sarebbero morti e dopo il soggiorno del paradiso terrestre, sarebbero stati trasferiti nel paradiso soprannaturale in corpo e anima, senza dover pagare il tributo della morte. Secondo, pur che non avesse peccato, come purtroppo fece Adamo, il capo dell'umanità, gustando il frutto proibito. Dio aveva condizionato la permanenza delle grazie soprannaturale e dei doni preternaturali alla prova di fedeltà che l'uomo avrebbe dovuto dargli. Ma Adamo peccò per dette la grazia e tutti i doni, cioè la scienza, l'integrità, l'impassibilità e l'immortalità. Grazie a tutti.